buongiorno a tutti sono alessio martinelli del team martinelli remax stella polare oggi siamo tornati su martina franca precisamente siamo su una delle strade principali via gioacchino rossini è quello che io e il mio collega giacomo vi mostreremo è una soluzione completamente indipendente da non perdere seguitemi alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.